Sono due le denunce presentate a carico del titolare della ditta produttrice dei fuochi pirotecnici esplosi domenica sera all'interno del camion che li conteneva in località Taverna. I militari, guidati dal Maggiore Eric Fasolino, hanno denunciato il titolare dopo aver riscontrato la presenza di materiale esplodente pericoloso e proibito. A ciò si è aggiunta la mancata autorizzazione ad utilizzare i fuochi pirotecnici da parte della ditta. I carabinieri inoltre hanno provveduto a sequestrare il mezzo interessato dallo scoppio al fine di ricostruire al meglio la dinamica dell'accaduto.